Solo una decina di ore, ma intense e significative. La tappa di Papa Francesco in Azerbaigian è stata scandita da una serie di eventi ed incontri. Dopo la messa nella chiesa dell'Immacolata di Baku e il pranzo con la comunità salesiana, il pontefice si è recato nel palazzo presidenziale per la cerimonia di benvenuto, accolto dal capo di Stato Ilam Eidara Alief, con il quale poi si è intrattenuto per un incontro privato. L'esecuzione degli igni e la deposizione di una corona di fiori hanno invece scandito la visita al monumento dai caduti per l'indipendenza, edificato nel 1998 e considerato l'emblema della lotta per la libertà e l'integrità nazionale. Sono giunto in questo paese, ha detto Papa Bergoglio, incontrando le autorità, portando nel cuore l'ammirazione per la complessità e la ricchezza della sua cultura, frutto dell'apporto dei tanti popoli che lungo la storia hanno abitato queste terre. Un'armonia tra le differenze che assume un particolare significato in un mondo che sperimenta il dramma di tanti conflitti, che trovano alimento nell'intolleranza, fomentata da ideologie violente e dalla pratica negazione dei diritti dei più deboli. Per opporsi validamente a queste pericolose derive occorre che cresca la cultura della pace, la quale si nutre di un'incessante disposizione al dialogo e della consapevolezza che non sussiste alternativa ragionevole alla paziente assidua ricerca di soluzioni condivise, mediante leali e costanti negoziati. Il Pontefice ha auspicato poi una pace stabile nella regione in modo che il Caucaso porta tra l'Oriente e l'Occidente possa essere un esempio a cui guardare per risolvere antichi e nuovi conflitti. Occorre non lasciare nulla di intentato per giungere ad una soluzione soddisfacente, ha concluso prima di recarsi alla moschea per l'incontro interreligioso. Sono fiducioso che attraverso il dialogo e il negoziato le controversie e le divergenze troveranno la loro composizione e il loro superamento. Grazie a tutti.